Il vincitore in primo grado si costituisce, cepisce la tardività e poi si difende nel merito dicendo che l'appello non ha neanche una possibilità di essere accolto, che deve essere rigettato perché è infondato, eccetera, ma in primo luogo dice che è inammissibile, perché è tardivo. In questo caso appunto il legislatore che cosa vuole? Vuole che il giudice rilevi con sentenza, non può utilizzare il filtro, la tardività pronuncia sentenza in cui dice l'appello è tardivo. Perché questo probabilmente? Perché se no si arriva a una conseguenza paradossale. Cioè, immaginate stesso esempio ma con una piccola complessità in più. Immaginate che il giudice si trovi di fronte ad un appello che ha queste caratteristiche. Il convenuto appellato ha eccepito la tardività, però se questo appello sia tardivo è abbastanza discutibile, è complesso da verificare. Perché sì, è arrivato al 35esimo giorno, ma è arrivato 35 giorni dopo una notificazione che non è chiaro se fosse buona o no. Magari una notificazione fatta in cancelleria mentre c'è discussione se in quella particolare situazione si potesse fare una notificazione in cancelleria o no. Insomma, c'è un'eccezione di tardività ma non è tanto liquida, non è tanto facile da risolvere. Invece, magari l'appello sia clamorosamente infondato, sia proprio palesemente privo di probabilità di essere accolto. Non ha probabilità di essere accolto. Anche in questo caso il giudice non può preferire l'ordinanza alla pronuncia della sentenza perché probabilmente il legislatore ha voluto così. Certamente ha voluto così, probabilmente perché c'è un rischio in questo caso. Cioè il rischio che se poi il giudice preferisse l'ordinanza di inammissibilità e dicesse l'appello non ha probabilità di essere accolto, a quel punto il ricorso per cassazione, magari meglio fatto, viene portato contro la sentenza di primo grado e la tardività dell'appello finisce per rimanere senza conseguenze. C'è questo rischio. Allora il legislatore ha detto che quando utilizzi il filtro deve essere ben sicuro che l'appello sia ammissibile. Questo è stato probabilmente il ragionamento. Beh, immaginate che il giudice però sbagli. Ci sia un'eccezione di inammissibilità per tardività ma il giudice o pronunciando, dimenticandola in base ad un'erronea applicazione della ragione più liquida oppure anche semplicemente sbagliando, la ritiene superabile, sbagliando la decide, ritiene che l'appello non sia tardivo, sbagliando, e poi siccome gli pare molto probabilmente infondato, a quel punto il filtro secondo lui lo può applicare perché l'appello non è inammissibile, non ha ragionevoli probabilità di essere accolto e applica il filtro. Supera l'eccezione di inammissibilità e rigetta per inammissibilità, parentesi in fondatezza, ai sensi del 348 bis con ordinanza. Nell'ordinanza troverete una pronuncia che rigetta un'eccezione dell'appellato. In questo caso, naturalmente l'appellato non ha nessun interesse al ricorso in Cassazione in via principale, questo è chiaro, ma se l'appellante ce l'ha, evidentemente, perché il suo appello è stato rigettato, propone l'impugnazione contro la sentenza di primo grado, che magari conteneva in questo caso una violazione di legge, e quindi per lui va benissimo proporre l'impugnazione contro la sentenza di primo grado. E qui viene fuori l'interesse dell'appellato, ora contro ricorrente in Cassazione, a recuperare la sua eccezione di tardività, che il giudice d'appello ha sbagliato a rispingergli. Può lui proporre un ricorso straordinario per Cassazione contro quella ordinanza di inammissibilità che ha superato la sua eccezione erroneamente. Qui i problemi che vedevo prima, negli altri due casi che vi ho fatto, non ci sono. Il primo problema, cioè quello che nel primo caso, ricordate, si denunciava un vizio che è in realtà un numero 5 dell'articolo 360, o meglio che non ci stava neppure nel numero 5 dell'articolo 360, mentre qui certamente c'è un errore in procedendo, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Cioè l'ordinanza di inammissibilità contiene un vizio che in condizioni normali è denunciabile per Cassazione. E qui non c'è neanche il secondo problema di prima, perché qui la parola del giudice d'appello su quell'eccezione è davvero una parola definitiva. Cioè l'eccezione è decisa solo in quella ordinanza di inammissibilità, sbagliata, ed è un'eccezione da sola sufficiente a definire tutto. Perché appunto se l'appello non fosse stato tardivo passa in giudicato la sentenza di primo grado. In questo caso tutte le caratteristiche, diciamo, vizio denunciabile con un ricorso per Cassazione ordinario, definitività e decisorietà del provvedimento che si impugna ci sono, quindi qui io credo che il ricorso straordinario sia senz'altro possibile. Ma secondo me l'unico caso sicuro è questo. Per il resto vale quello che vi ho detto prima, cioè ho l'impressione di no, con tutte le dovute cautele del caso, perché francamente è veramente una situazione normativa estremamente incerta. Quindi forse bisognerebbe concludere che più che complicazione o semplificazione l'avvocato si sta un po' alla finestra e vede quello che succede e lo subisce. Certo è che prima gli appelli erano decisi a cognizione piena, adesso lo possono anche in modo sommario, almeno probabilmente, almeno questa è la mia impressione. direi che possiamo tranquillamente concludere qui, mi pare di aver detto tutto quello che avevo in mente. Grazie. Bene, ringraziamo il professor Romano, che credo che abbia dato un quadro estremamente chiaro di queste vicende e cambiamo decisamente argomento, diamo la parola, come giustamente detto, scusate, il professor Romano, a un maestro del diritto processuale civile, ovviamente senza piageria, il professor Francesco Paolo Luiso, che io ringrazio particolarmente, perché l'ho ascoltato tante volte a Roma, a parlare anche di argomenti forse meno interessanti per tutti, ma purtroppo in qualche modo sì, quelli della mediazione, invece oggi abbiamo deciso di non toccare l'argomento della mediazione, bensì di toccare la riforma dell'espropriazione dei crediti. Grazie all'amico avvocato Guglielmo e grazie a voi che siete qui in questa bella giornata di venerdì, invece di andare a mangiare lo zampone, ma insomma quello avete sempre tempo di mangiare lo stasera. L'argomento di cui vi parlerò io è un argomento un po' arido, però siccome l'espropriazione dei crediti, come sapete, in tutti i sistemi moderni è quella preferibile, perché l'espropriazione dei mobili non vale niente, e quella degli immobili vale, ma a tempi biblici, la riforma dell'espropriazione dei crediti a mio avviso è un argomento su cui merita di soffermarsi, perché vedete, qui si può dire forse un po' in parte, il ben noto proverbio che di buone intenzioni con quello che segue, perché il legislatore ha avuto una buona idea a mio avviso, un'ottima idea, ma l'ha lasciata un po' così a mezzo e ha lasciato un po' nel guado noi poveri interpreti che in qualche maniera poi con queste norme ci dobbiamo lavorare. Mi permettete di fare, credo di essere abbastanza belle, però vorrei farvi un quadro generale ricordando a quelli non più giovanissimi, ma per giovanissimi intendo persone che non abbiano studiato negli ultimi 3-4 anni, qual è lo schema generale dell'impostazione dei crediti. Voi sapete che si notifica un atto di pignoramento al debitore esecutato e al terzo debitore, nella versione originaria del codice si invitava il terzo debitore a comparire all'udienza per rendere la dichiarazione. Se il terzo debitore compariva all'udienza e rendeva una dichiarazione conforme o comunque non contestata dal creditore precedente, il giudice assegnava il credito. Faccio l'ipotesi del credito assegnato al creditore, non faccio l'ipotesi del credito venduto che complicherebbe un po' la vita. Assegnava il credito al creditore. Il creditore, secondo la versione prevalente in dottrina e giurisprudenza, a questo punto aveva un titolo esecutivo formato dal provvedimento di assegnazione che alle spalle aveva un atto che non vorrei dire confessione perché in realtà aveva ad oggetto un diritto e non un fatto, ma insomma lato senso confessorio, chiamiamolo, ma non è neanche un riconoscimento di debito perché è titolato, quindi non è neanche dal punto di vista sistematico un riconoscimento di debito, chiamiamolo a confessione, ci intendiamo. Poi se qualcuno mi boccia all'esame di diritto privato, pazienza, ormai tanto sono vecchio, posso anche essere bocciato all'esame di diritto privato. È chiaro che a questo punto nella eventuale successiva espropriazione che il creditore assegnatario conduceva contro il terzo assegnato, erano precluse tutte le contestazioni del terzo che incompatibili con la dichiarazione conforme che lui aveva fatto. Quindi è chiaro che per esempio tutti i fatti successivi erano tutti utilizzabili per contestare l'esistenza del credito, ma non tutto quello che era in contrasto con la dichiarazione. Seconda alternativa, il terzo non si presentava o presentandosi non faceva la dichiarazione o negava di essere debitore. A questo punto delle due luna o il terzo o il creditore precedente chiedeva in quell'udienza di procedersi all'accertamento del credito o il processo esecutivo si estingueva. Se il creditore precedente chiedeva di procedersi all'accertamento del credito il processo esecutivo era sospeso ex legge come in tutti i casi sapete la sospensione ex legge del processo esecutivo vi era in tutti i casi in cui bisognava formare l'oggetto del processo esecutivo cioè formare ciò che veniva pignorato spropriazione di beni indivisi pignoramento di crediti si faceva un processo di cognizione di fronte al giudice ordinariamente competente con tre gradi di giudizio si arrivava al giudicato se la sentenza passata al giudicato accertava l'esistenza del debito si tornava dal giudice dell'esecuzione il quale faceva l'assegnazione. A questo punto c'era un titolo esecutivo a favore del creditore assegnatario nei confronti del terzo assegnato erano precluse tutte le contestazioni del terzo incompatibili con l'accertamento contenuto nella sentenza secondo le regole normali che sappiamo fanno cadere lo spartiacque temporale per i fatti all'udienza e applicazione delle conclusioni e per le norme al momento della pronuncia della sentenza. Prima modifica che si è avuta se non sbaglio nel 2006. Per facilitare la dichiarazione del terzo si è introdotta una distinzione nel articolo 545 545 545 o versi tratti di credito di lavoro assimilato a un credito di lavoro rimane il meccanismo che abbiamo detto prima. In tutti gli altri casi non c'è bisogno che il terzo si vecchia l'udienza. Basta che comunichi al creditore precedente per raccomandata la sua trasmetta la sua dichiarazione. Questo per evitare quelle chi ha fatto il giudice dell'esecuzione lo saprà per evitare la permanenza in aula della direzione provinciale del tesoro per i pignoramenti dei crediti dei dipendenti pubblici soprattutto delle banche del funzionario di banca che stava lì un paio d'ore seduto al tavolino per dichiarare volta per volta quando toccava a lui che sul conto corretto c'erano soldi sufficienti per coprire o no non c'erano o quello che comunque dovrà dichiarare. Se però questa dichiarazione non c'era nel senso che il creditore precedente non si presentava all'udienza con la lettera rimaneva il discorso che abbiamo fatto prima quindi necessità di chiedere l'accertamento pena all'estinzione del processo esecutivo processo di cognizione eccetera eccetera quindi che cosa vuol dire questo vuol dire una cosa importante che nella anche dopo la riforma del 2006 il trasferimento del credito aveva luogo unicamente quando si fosse raggiunta una sufficiente virgolette certezza chiuso le virgolette ora cerco di spiegarmi sufficiente certezza della esistenza del credito sufficiente certezza perché questa esistenza era confermata dal terzo debitore con una sua dichiarazione negoziale sufficiente ho detto negoziale sarà negoziale è frediano vero? sì una dichiarazione facciamo finta che non abbia detto nulla oppure una sentenza non si poteva avere trasferimento se non si aveva acquisita questa dichiarazione in conseguenza come vi dicevo nella fase successiva al trasferimento del credito le possibili contestazioni sull'esistenza del credito erano limitate a quella che volta per volta l'atto che ne era presupposto cioè la dichiarazione della sentenza consentiva cioè nei limiti in cui si può contestare il contenuto della sentenza nei limiti in cui si può contestare il contenuto della dichiarazione di esistenza del credito qui invece oggi noi abbiamo avuto una modifica radicale perché il nostro registratore ha anzitutto ulteriormente facilitato la dichiarazione del terzo perché ora oltre che con la comandata si può fare anche con posta elettronica certificata naturalmente la dichiarazione con posta elettronica certificata così come la raccomandata la mandata all'avvocato del creditore precedente non al creditore precedente ma siccome ormai la posta elettronica certificata tutte le imprese iscritte al registro delle imprese ce l'hanno il discorso diventa relativamente direi 9 volte su 10 non ci sarà problemi a fare la dichiarazione ma non è qui il punto il cambiamento fondamentale è contenuto nei nuovi articoli 548 e 549 come vedremo il 548 non dà problemi il 549 invece qualche problemino lo dà perché cosa dice il 548 il 548 continua a distinguere fra il pignoramento dei crediti di cui l'articolo 545 terzo e quarto comma c'è crediti di lavoro assimilati e tutti gli altri crediti nel primo caso vi ricordo in cui il terzo debitore deve venire in udienza quando il terzo non compare all'udienza stabilita il credito pignorato ascoltate nei termini indicati dal creditore si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 e 543 cioè assegna il credito questo significa che in realtà non è più necessaria la verifica dell'esistenza del credito è sufficiente l'inerzia del terzo debitore perché vi siano i presupposti per l'assegnazione e il trasferimento del credito ma attenzione però con la totale carenza degli effetti preclusivi che precedentemente erano propri che attualmente sono ancora propri della dichiarazione e che precedentemente erano propri della sentenza che accertava il credito il legislatore stesso ci dice si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento dell'assegnazione notiamo per incidenza che qui il legislatore ci conferma quello che prima sapevamo per giurisprudenza e dottrina ma non perché il legislatore lo diceva ovvero sia che il creditore assegnatario non aveva bisogno di procurarsi un altro titolo esecutivo perché il titolo esecutivo era già dato dalla dichiarazione o sentenza più provvedimento di assegnazione se la non contestazione è ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione questo significa dal punto di vista letterale che nella vita sostanziale successiva a questo provvedimento di assegnazione rimane libera al terzo debitore e la contestazione dell'esistenza del credito perché dal punto di vista funzionale essendo questo un provvedimento un atto del processo esecutivo non può per definizione avere efficacia accertamento perché se un atto del processo esecutivo ha l'efficacia di un atto del processo esecutivo cioè opera un trasferimento ma in nessun modo può portare ad accertare l'esistenza del credito perché non è la funzione svolta dal giudice in questa sede non possiamo pensare che tutte le volte che c'è un giudice solo perché c'è un giudice fa un giudicato e no se è un processo dichiarativo sì se è un altro processo no evidentemente allora del resto voglio dire sia dal punto di vista letterale sia dal punto di vista sistematico è troppo evidente che qui prescindendo dal previo accertamento del credito il legislatore butta questo eventuale accertamento dopo l'assegnazione e questa è l'idea geniale perché si rende successivo ed eventuale quel processo di cognizione che invece prima era preventivo e necessario anche quando magari il terzo non aveva niente da contestare anche quando il terzo non si presentava ma comunque non avrebbe neanche contestato dopo perché in realtà non gliene fregava nulla cioè non ci voleva andare non aveva voglia era debitore cioè per mille buone ragioni per cui il terzo si disinteressa delle vicende attinenti al suo creditore nell'ipotesi in cui invece si tratta di pignoramento di crediti di altro genere c'è un passo in più perché perché voi capite bene che mentre nel sistema precedente il creditore l'avvocato del creditore che si presentava all'udienza diceva al giudice non mi ha detto nulla e giudiceva bene e allora facciamo l'accertamento del credito e oggi in non avermi detto nulla nella logica della riforma sarebbe dire bene assegnami il credito perché non mi ha detto nulla però che non gli avesse detto nulla lo diceva l'avvocato l'avvocato del creditore precedente non c'era alcun riscontro che non gli fosse arrivata l'email o la raccomandata e allora qui il registratore ha previsto che se all'udienza l'avvocato del creditore precedente dice non si è fatto vivo il giudice fissa una successiva udienza che viene la cui fissazione viene notificata al terzo debitore cosicché a quella successiva udienza si ricrea la situazione che si produce indiqueti immediate in prima battuta per il pignoramento dei crediti di lavoro quindi anche a quell'udienza lì se questi non comparano a nuova udienza il credito pignorato o il possesso dei beni appartenenza al debitore lasciamo perdere il pignoramento dei beni del debitore presso il terzo nei termini indicati dal creditore si considera non contestato a norm del primo com l'ultimo comma è una norma un po' sibidina che contiene un errore perché il terzo può impugnare nelle forme e nei termini con l'articolo 617 primo comma l'ordinanza e l'assegnazione dei crediti apro parentesi nessuno l'ha mai dubitato che l'ordinanza e l'assegnazione dei crediti sia impugnabile con l'opposizione dell'attesa esecutiva il problema vero lo vedremo fra poco è per quali motivi si può impugnare questo è il vero problema dicevo se prova di non aver né ecco questo né in italiano vuol dire dell'ordinanza di assegnazione non aver né avuto tempestiva conoscenza per regolarità della notificazione per caso fortuito forza maggiore evidentemente invece questo né non si riferisce all'ordinanza di assegnazione ma si riferisce all'ordinanza precedente con cui era stata fissata l'udienza non ha senso dire che il terzo può opporre può proporre opposizione agli atti esecutivi verso l'ordinanza e assegnazione se non ne ha avuto conoscenza del resto comunque questa qui è una norma assolutamente inutile perché è tutto evidente anche sulla base dei principi generali che se il terzo propone opposizione agli atti esecutivi nei confronti dell'ordinanza e assegnazione affermando che non gli è stata notificata l'ordinanza di fissazione dell'udienza in cui è stata fatta l'assegnazione ci sono tutti gli estremi per un'opposizione agli atti esecutivi quindi non ci sono caso fortuito forza maggiore la rimessione in termini si può che sempre chiedere quindi questo comma non ci dice assolutamente niente facciamo un punto l'idea giusta credo del legislatore è di dire litighiamo se qualcuno lo chiede ma non d'ufficio il terzo non si fa vivo io ti assegno il credito e poi vedete da te come avviene in tanti ordinamenti diversi dal nostro in cui l'assegnazione ai crediti si fa da strato cioè hai pignorato sto credito pigliatelo ora vai a vedere se c'è se non c'è se ti paga non ti paga fatti tuoi quindi diciamo l'idea è buona e nell'ipotesi in cui il terzo è inerte direi è ottima a questo punto viene assegnato il credito il creditore assegnatario va dal terzo dice mi paghi cosa fa che ti pago questa cosa ma io non sono mica debitore è chiaro che a questo punto attenzione fermi rimanendo i limiti degli effetti sostanziali del pignoramento si potrà discutere fuori del processo esecutivo fra creditore assegnatario e terzo assegnato dell'effettiva esistenza del credito pignorato senza che peraltro nessuna preclusione venga per il fatto che il terzo non sia presentato all'udienza nessuna preclusione venga per il fatto che il giudice ha fatto un provvedimento di assegnazione perché il provvedimento di assegnazione trasferisce il credito ma non accerta che il credito vi sia così come il decreto di trasferimento di un bene immobile trasferisce la proprietà dell'immobile ma non accerta che il debitore fosse proprietario dell'immobile se no il 2920 e il 2921 che ci sarebbero scritti a fare veniamo al punto controverso se viceversa il terzo contesta dice il 549 se sulla dichiarazione sorgono contestazioni il giudice l'esecuzione le risolve compiuti i necessari accertamenti con ordinanza l'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento a un corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei limiti in cui l'articolo 617 finiamo andiamo per ordine il giudice fa i necessari accertamenti emette un provvedimento che è un'ordinanza del processo esecutivo gli atti del processo esecutivo non possono avere efficacia dichiarativa perché è un processo esecutivo sarebbe come a di che un baccalà ha l'effetto di un maiale e no se è un baccalà è un baccalà non può essere un maiale e viceversa dico bene? sarebbe come dire noi siamo in una rivendita di baccalà prendete un pezzo di arista di maiale ma se sono rivendita di baccalà come faccio a prendere il maiale? deve andare a macelleria per pigliare il maiale no? quindi è la stessa cosa se sono un processo esecutivo come faccio a trovare un provvedimento che abbia gli effetti del 2909? lo dice il legislatore ripete la stessa formula come l'ordinanza produce effetti a fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di esegnazione cioè opera solo il trasferimento non decide un bel nulla non può decidere niente perché non aspetta il processo esecutivo a decidere il processo esecutivo aspetta trasferire pagare fare tante cose ma non decidere e che vuol dire cerchiamo di andare per ordine aspettate finisco ed è impugnabile nelle forme e nei termini di quattro 117 grazie a cappi vorrei anche vedere vorrei anche vedere che fosse impugnabile è un atto del processo esecutivo certo è impugnabile ma il problema è dicendo cosa perché questo è il vero problema perché vedete se noi facessimo il discorso e guardate l'ho fatta anch'io perché ci sono cascata anch'io in questa in questa come posso dire in questo trompe lei cioè in questo inganno ottico uno potrebbe dire benissimo qui è la stessa cosa di prima il giudice fa un accertamento ai soli fini del processo esecutivo e adesso scusate il giudice fa tanti accertamenti ai soli fini del processo esecutivo quando vede se il bene va diviso oppure va venduto alla quota quando stabilisce se va venduta il ribasso fa tantissimi accertamenti ai fini del processo esecutivo sono però attenzione come direbbe Calamandrei non sono è l'accertamento è l'accertamento volgare che si fa qualunque persona che guarda si guarda intorno per decidere cosa fare non quella cosa che fa specifica del processo di cognizione per stabilire eccetera eccetera e quindi si potrebbe dire anche qui succede la stessa cosa poi viene fatto l'assegnazione si va fuori del processo esecutivo quell'ordinanza non preclude nulla non c'è una dichiarazione conforme non c'è una sentenza l'ordinanza è un atto che si limita a trasferire il credito si discute fuori del processo esecutivo tenendo conto degli effetti sostanziali del pignoramento su questo non c'è dubbio banalmente il terzo assegnato non po' di ma io ho pagato dopo la notificazione del pignoramento perché si risponde peggio per te hai pagato male soltanto che tutto questo fa sorgere un problema ragazzi e se per caso il giudice conclude fatti i necessari accertamenti per la non assegnazione del credito che succede che fa il creditore se l'opposizione agli atti esecutivi ha un'opposizione di invalidità formale dell'atto di assegnazione il creditore procedente che si veda negata l'assegnazione che fa dove lo trova un processo di cognizione in cui accertare il credito perché l'assegnato lo trova fuori del processo esecutivo quando il creditore precedente gli andrà a pretendere il pagamento lui potrà fare un'opposizione all'esecuzione potrà fare un accertamento negativo potrà fare tutto quello che vuole un procedente ma il creditore precedente chi fa a questo punto e allora e qui chiudo perché ho portato via anche troppo tempo forse bisogna ripensare all'opposizione agli atti esecutivi dopo il ripensamento dopo la la costruzione dell'opposizione agli atti esecutivi come il rimedio generale cognitivo per far valere l'invalidità degli atti del processo esecutivo ma soprattutto degli atti dell'ufficio in un'ottica quindi del tutto diversa da quella pensata dal legislatore 42 che se fate conto mette l'opposizione agli atti esecutivi nella rubrica delle opposizioni del debitore del terzo assoggettato all'esecuzione come se soltanto il debitore e terzo assoggettato all'esecuzione potesse fare opposizione agli atti esecutivi come se l'oggetto di opposizione agli atti esecutivi fosse l'atto del creditore precedente quando sappiamo che la realtà è di ormai 60 anni di esperienza 50 di esperienza 55 di esperienza ci dice no 60 ci dice che in realtà l'oggetto è l'atto dell'ufficio e l'opposizione è proponibile da qualunque soggetto da qualunque soggetto che assume la qualità di parte in senso lato del processo esecutivo però finora si era sempre detto ma attenzione problemi di merito no cioè problemi relativi all'esistenza del diritto mai possono essere fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi forse bisogna fare il passo ulteriore e dire che in tutti i casi in cui il legislatore ha trasformato un processo di cognizione necessario e preventivo in una come posso dire in un esame in una questione da risolversi all'interno del processo esecutivo con una istruttura con un'attività del giudice dell'esecuzione con un provvedimento finalizzato unicamente alla attività esecutiva voi capite che io sto pensando al padre al genitore di questa norma che è 512 anche lì il legislatore ha fatto sparire le controverse sulla distribuzione del credito forse si può sostenere che in tutti questi casi l'opposizione agli atti esecutivi non è più soltanto il rimedio per far valere l'invalidità processuale dell'atto ma per far valere l'ingiustizia dell'atto per far valere il merito cioè è un processo di cognizione come indubbiamente è il processo di opposizione agli atti esecutivi affidato a un giudice diverso perché non può essere affidato al giudice dell'esecuzione in cui si può contestare quello che prima doveva essere accertato antecedentemente con un processo di cognizione e che ora viene ributtato a una eventuale contestazione posteriore all'atto del giudice dell'esecuzione in questo caso l'assegnazione o non l'assegnazione del credito nell'altro caso del 512 alle controversie in sede di distribuzione però attenzione se arriviamo a questa conclusione allora mi sembra che dobbiamo in qualche modo correggere quello che abbiamo detto prima cioè precisare cioè che il provvedimento del giudice dell'esecuzione continua a non avere alcuna efficacia preclusiva ma se viene fatta una contestazione nel merito cioè viene sollevata opposizione agli atti esecutivi contestandosi l'inesistenza o l'esistenza del diritto a seconda che il provvedimento sia di assegnazione o non assegnazione quello è un processo di cognizione su questo della controversia attiene anche non soltanto al problema di regolarità processuale di nudità processuale dell'atto ma anche al contenuto dell'atto e allora se questo accade però ciò vuol dire che da quel processo esce una sentenza questa sì che ha la stessa efficacia preclusiva che aveva la vecchia sentenza di accertamento del credito grazie qualche giorno fa c'è stato un mio nostro collega un mio caro amico che è molto appassionato di calcio e mi ha detto ma scusate far venire il prof Luiso a parlare dell'espropriazione dei crediti è come mettere a giocare Cristiano Ronaldo in terza categoria io gli ho detto che forse è vero però che purtroppo dobbiamo parlare di modifiche e quindi recenti al processo civile ed è per questo che abbiamo fatto giocare questo giocatore in terza categoria però siccome mi ha promesso che tornerà la prossima volta speriamo di avere qualche cosa più così sulla quale si riuscirà a sbizzarrire e adesso tocca a Franco De Stefano al di là dell'ironia che ha fatto il nostro presidente sulla sua amicizia col collega Mundici che non ha la passione del calcio ma un'altra passione nota a tutti ringrazio molto Franco perché lo abbiamo fatto venire da tanto lontano anche più degli altri e parlare di due argomenti che gli competono innanzitutto le modifiche al giudice di legittimità ma anche ai cenni sulla proposta di conciliazione del giudice che è una novità sulla quale forse c'è poco da dire però toccava a un giudice parlarcene a te Franco grazie grazie Guglielmo ringrazio il consiglio dell'ordine e gli avvocati della fondazione fraense modenese oltre che gli amici Guglielmo e Paolo dell'opportunità di tornare da voi oltretutto una giornata splendida per cui ha aperto il cuore vedere le trasformazioni alla bella stazione qui vicino e non so che non è di Modena ma comunque fa onore a tutta l'Emilia fatti i doverosi ma sentiti ringraziamenti io limiterò la mia mezz'ora alle strettamente ai tempi ai temi assegnatemi come giusto che sia devo soltanto però vista la platea di avvocati e visto l'osservatorio in cui bene o male mi trovo a essere di non condividere l'ottimismo devo dirvi di non condividere l'ottimismo del professore Romano sul fatto che per il filtro in appello voi sarete spettatori perché se i primi attori diciamo così saranno i magistrati con un'applicazione normativa molto complicata chi somministrerà loro il materiale sul quale si formerà quella giurisprudenza sarete voi non so se per non diffondere il panico ma l'avvocato è il professore e avvocato naturalmente mi riferisco alla funzione complessivamente Romano non ha calcato troppo la mano sulla modifica del 342 in ordine cioè a come lo dovete fare l'atto di appello perché su quello se non ci saranno modifiche c'è stata una commissione ministeriale che scade fra 30 ore che ha provato a proporre delle modifiche al riguardo se non ci saranno modifiche voi secondo una parte degli interpreti dovreste fare una antisentenza una sentenza alternativa appena di inammissibilità quindi direi che l'osservazione di partenza invece del professore Romano è assolutamente condivisibile so che il professore Luiso la condivide perché abbiamo avuto modo di scambiarci idee in un'altra sede le riforme dei gradi di impugnazione sono tutte orientate a scoraggiare non a dissuadere a scoraggiare che è peggio a scoraggiare l'utente disseminando il processo di una serie di trabocchetti e trappole nelle quali potrete da avvocati inciampare non tanto voi ma fare inciampare i vostri clienti per cui il fatto che rimaniate alla finestra francamente mi atterrisce perché lascerete lascereste in questo caso alla molteplice varietà interpretativa delle 26 corti di appello italiane prima e poi della suprema corte di cassazione la sorta del vostro processo che il legislatore pretenti secondo me annaspi alla ricerca di uno strumento per abbattere il contenzioso è evidente che le intenzioni siano certamente ottime e altrettanto indubitabile come diceva il professore Luiso tuttavia di buone intenzioni e la stricata è una certa strada vero è che il governo dei tecnici ve lo ricordate sembra una vita fa ma è un anno e mezzo fa è quello che ha partorito le riforme sull'appello e sulla cassazione di cui parliamo oggi il governo dei tecnici aveva per esperienza personale insomma non si svela nulla aveva davanti a sé il famoso rapporto della banca mondiale degli investimenti che è quella che dà le pagelle alle singole economie e saprete tutti si chiama During Business la banca mondiale degli investimenti redige anno per anno un rapporto di graduatoria delle virtuosità delle economie censite ne censisce 182 perché sono tutte sono tutte quelle che ci sono non è che ne censisce soltanto 182 non c'è una serie A non c'è una serie B per farvela in breve nel settore capacità di assicurare tutela ai diritti che viene un po' più pragmaticamente all'anglosassone tradotto in enforcing contracts la banca mondiale ci mette ad un posto piuttosto scadente che è 156 su 182 nella valutazione lasciamo perdere che saranno dati come sono stati raccolti questi sono i dati che classificano un po' come standard and poor come quegli altri galantuomini della city che con un nutus con un cenno della testa determinano il crollo o la fortuna di imperi commerciali e su questo che viene qualificata il nostro sistema paese come tempo per avere in media soddisfazione siamo al 171 posto con 1210 giorni di media subito dopo Sotumay Principe che sono due bellissime isole antillane il Gabon l'Angola la Repubblica Araba di Egitto prima della crisi morsi ma siamo molto meglio di Djibouti della Liberia e di Timoreste andiamo molto meglio per quanto riguarda il costo della procedura sul totale e cioè quanto costa a chi ha ragione in termini proprio monetari rispetto al capitale perché qui sulle 182 siamo centocinquesimi a pari merito con la Georgia che non è quella americana ma quella del Caucaso e siamo davanti al Paraguay a San Vincent e the Grenadines che sono altre due isole anche qui nelle antille torniamo piuttosto giù con il numero di procedure richiesto per dal momento in cui il credito non viene pagato al momento in cui si ha la speranza di essere pagati con ben 41 procedure al 125esimo posto insieme al Bangladesh al Chad all'Esoto l'Esoto è una enclave della Repubblica Sudafricana per chi se lo fosse scordato o non l'avesse mai saputo come me le Maldive il Peru il Togo e l'Uruguay siamo molto meglio del Benin del Camerun della Repubblica Popolare dell'Aos in questo quadro abbiamo un'altra situazione paradossale per una democrazia occidentale se vogliamo accettare questa definizione l'accesso in corte di Cassazione i dati che una speciale commissione ministeriale ha finora utilizzato per cercare di formulare qualche proposta al riguardo al 31 ottobre 2013 parlano di 97.520 ricorsi pendenti in Cassazione di questi ce ne sono due del 97 mi piacerebbe sapere chi sono queste quattro parti per il resto andiamo al carico maggiore che è di 24.000 del 2012 17.000 nel 2011 nel 2013 sono solo 23.000 perché siamo ad ottobre in una situazione che vede la corte di Cassazione italiana in condizioni inconcepibili per qualunque altro ordinamento al quale vogliamo ispirarci col quale vogliamo confrontarci la scelta del legislatore non è stata eccessivamente coerente anche probabilmente per la impreparazione culturale ad accettare l'uno piuttosto che l'altro modello e fin dal 2006 poi nel 2009 nel 2012 nel 2013 forse nel 2014 ha messo mano a meccanismi tesi alla deflazione di un contenzioso di legittimità che può essere definito abnorme se pensiamo che la corte suprema degli stati uniti arriva a decidere sulle cento cento cause civili l'anno decidendo se decidere mentre la vecchia house of lords attualmente la corte suprema di recente istituzione della gran bretagna orlanda del nord ne fa 60 i 30 mila provvedimenti della nostra corte di cassazione sono qualcosa da fare impallidire nonostante il presidente lupo l'ex presidente lupo ora consigliere capo per gli affari giuridici del presidente della repubblica abbia pubblicamente bacchettato i civilisti dicendo loro che se i penalisti riuscivano a fare 49 mila provvedimenti l'anno vuol dire che i civilisti pensavano solo a fare pubblicazioni e non avevano senso delle istituzioni in questo quadro piove con la benedizione dell'ex primo presidente la riforma del 360 numero 5 il 360 numero 5 in corte di cassazione ha avuto una per quanto riguarda i motivi di ricorso ha avuto una storia tutto sommato esemplare fino a prima del 2012 sappiamo tutti che il vecchio 360 numero 5 prevedeva la possibilità di ricorrere di spiegare il ricorso per cassazione però messa insufficiente o contraddittoria motivazione circonfatto controverso e decisivo per il giudizio era una riforma introdotta nel 1950 erano altri tempi per modificare una dizione straordinariamente simile a quella attuale introdotta col codice originario quindi l'ho messo esame di un punto decisivo dicevami fare la vecchissima formulazione per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti cosa era successo che col codice mi sto facendo la storia del diritto processuale ma questo per dire che troppo spesso il legislatore animato da ottime intenzioni non prende lezioni dalla storia e commette degli errori che sono molto preoccupanti nel codice di procedura civile previgente a quello attuale non esisteva questa disposizione tuttavia la corte di cassazione che però non faceva 30.000 sentenze l'anno e non era assediata da 100.000 ricorsi e da 35.000 sopravvenienze all'anno aveva ricavato secondo me con una corretta semplice e lineare interpretazione delle norme processuali aveva ricavato il vizio motivazionale una motivazione incoerente assurda superficiale addirittura omessa è una violazione se non altro della norma processuale che richiede una motivazione purché sia nel 40 si cercò già di introdurre una minima limitazione nel 50 si disse 1950 si disse semplicemente bene regolamentiamo recepiamo questi aspetti e rendiamo ricorribile per cassazione il vizio motivazionale omessa insufficiente contraddittoria motivazione prima si parlava di punto legislatura del 2006 inventandosi questo intelligente di punto si 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 Grazie.